Van de Femme è un festival di fumetti e illustrazioni nato nel 2013 e promosso dalla libreria delle donne Tuba, la libreria del quartiere Pigneto a Roma. È un festival che quest'anno andrà in onda dal 5 all'8 dicembre. Abbiamo scelto una versione digitale per permettere a tutte e tutti di poter comunque partecipare. Van de Femme ha vinto quest'anno il Bando dell'Estate Romana, quindi fa parte di Roma Rama 2020 e Palinzesto Culturale del Comune di Roma. È un festival dedicato al fumetto e all'illustrazione. Quest'anno ospiteremo tantissime artiste italiane e internazionali, lo posso dire, e siamo molto felici di poter continuare a organizzare questo festival con la sperimentazione di un'edizione particolare quest'anno. Van de Femme si chiama così perché il festival è dedicato ai fumetti e alle illustrazioni delle donne, delle donne intese come quella parte che fa fatica ad accedere all'editoria, al mercato editoriale, quindi che magari nonostante abbia dei fumetti stupendi, nonostante faccia un lavoro assolutamente esemplare, non riesce ad accedere alle case editrici, non riesce ad accedere ai tavoli e agli spazi espositivi delle librerie.